Ciao, buonasera a tutti, ci troviamo qui al Brunone di Piacenza, un locale stripitoso. Siamo qui per comunicare a tutti i fan del Grande Fratello, di quelli che adorano questo grandissimo talent di Canale 5, per comunicare a tutti i fan, ripeto, una serata che si sarà qui il giorno 6 dicembre, venerdì, alle ore 21.30. Una serata che inizierà con l'anteprima dell'apertura del grande interprete performance Robby Margherita, un ragazzo che interpreta la musica degli anni 70, 80, 90, 2000 ai giorni d'oggi, ai giorni nostri ovviamente di noi giovani, in più con la partecipazione del rapper McNoise, quindi ci saranno varie categorie in esibizioni live e tanto divertimento. Questo evento si terrà, ripetiamo, per tutti gli amici ascoltatori che vedranno questo videoclip al Brunone di Piacenza, via Fratelli d'Italia. Non potete sbagliare, è l'unico locale strepitoso della zona. Ecco, io per il momento faccio vedere la videocamera più avanti, praticamente vi mostro che cos'è il bullone, dove si trova il bullone, più teatro e cosa si sta tenendo in questo istante al bullone. Ecco, vediamo già tanta confusione davanti, vediamo tanta confusione e quindi praticamente ci portiamo all'interno di Piacenza, ovviamente abbiamo un po' di difficoltà nel sistemare, ecco, si sta tenendo la serata di Halloween, una serata molto particolare, un po' di emozioni, dai, veramente sta passando all'allegria. Ecco, questo istore, questo solo stare a te, non lo vediamo. Ok, è importante, è una grande partecipazione della Piacenza, che ti ha raggiunto, è un po' di emozioni, è un po' di emozioni, perché la loro debba è sempre in te, è un po' di emozioni, non si trova mai in mezzo, è un po' di emozioni, ok, è un po' di emozioni, è un po' di emozioni, ok, è un po' di emozioni, è un po' di emozioni, ok, è un po' di emozioni, la legge, a prendere il cuore e su una rispella di grè e non dimmi chi ha anche tu a costruzando il tuo cuore e con la sola più su con la sola più su